Buon pomeriggio a tutti, mi presento, mi chiamo Ivan Pietro Terroni, sono responsabile di tutta l'area funzionale per Techeggi Italia e ad oggi siamo qua per parlare di come si evolvono quelli che sono i processi di magazzino sempre più integrati con tutto quello che circonda l'attività dell'operatore logistico ma anche della gestione del magazzino stessa. Prima slide, cerco di andare velocissimo perché è un pochettino quella che è l'evoluzione della nostra azienda, Techeggi è un'azienda che ad oggi opera in più di 20 uffici in giro per il mondo, abbiamo una crescita a doppia cifra che ci caratterizza in tutti gli anni, stiamo evolvendo parecchio in tutto quello che sono le tematiche praticamente funzionali di processo con integrazione ampiamente tecnologica. Prima di partire con quella che è la presentazione del progetto che stiamo portando avanti vorrei introdurre quello che è un concetto, un concetto estremamente importante, il concetto che lega poi effettivamente quella che è l'evoluzione di quello che è il business di ogni azienda. Ad oggi siamo caratterizzati da quello che è una chiave dell'evoluzione, da n chiavi dell'evoluzione che spingono le società ad evolvere. Il concetto tendenzialmente darwiniano di quella che era la sopravvivenza delle specie ad oggi diventa un concetto molto più ampio che caratterizza quella che è l'evoluzione delle aziende. Le aziende che riescono a stare al passo con i tempi, che riescono ad evolvere correttamente, che riescono a sfruttare quella che è la tecnologia per il valore aggiunto del business, sopravvivono meglio, hanno valore aggiunto e riescono a crescere, diciamo così, in quello che è un mercato che ad oggi è estremamente competitivo. Quattro chiavi, a mio avviso, sono rilevanti e importantissimi per l'evoluzione. Il concetto di innovazione. L'innovazione è tutto quello che riesce a far sì, a propendere quella che è un'azienda verso quella che ha una nuova tecnologia, che potrebbe portare qualcosa di nuovo. Abbiamo il concetto di tecnologia stesso, che è effettivamente un modo ad oggi per iniziare a rompere quelli che sono gli schemi. Innovazione, tecnologia, però devono essere sempre correlate ad altri due concetti chiave, che sono persone e business. Persone perché con innovazione e tecnologia noi siamo in grado di supportare meglio quella che è l'attività delle persone, togliere quella che è l'attività magari un po' più manuale, di meno valore aggiunto, far sì che le attività ripetitive non siano fatte dall'uomo, ma che l'uomo dia poi valore aggiunto in tutto quello che è il business reale e che possa utilizzare il tempo, il suo tempo che ha all'interno del mondo lavorativo, in quella che è la vera e propria evoluzione della sua attività. Business perché la tecnologia, l'innovazione e le persone sono tre concetti fondamentali che possono aiutare quello che è il business in un'azienda. Senza quei due concetti lì tendenzialmente il business ad oggi diventa comunque difficile da portare avanti perché l'evoluzione comunque è in costante aumento. Torneremo poi su questa slide qua alla fine della presentazione in modo da raggiungere quello che è l'obiettivo, il concetto più legato a quello che è la maieutica socratica, cercare di riuscire a capire che cosa poi dopo arriviamo cercando di mettere assieme questi quattro oggetti qua e presentando quella che è la nostra esperienza. Esperienza progettuale. Ad oggi il progetto che stiamo seguendo per un cliente che tendenzialmente è leader all'interno del loro settore ha essenzialmente quattro macro obiettivi. Il primo obiettivo è l'upgrade proprio di quello che è il sistema IWM. L'IWM è un sistema che permette quella che è la gestione estesa del magazzino, è molto più ampio rispetto a quello che è il concetto del WM attuale e supera notevolmente il concetto di tutti quelli che sono i WMS che ad oggi caratterizzano potenzialmente la gestione del magazzino su molte aziende. Il secondo obiettivo estremamente importante è quello di riuscire ad integrare tutto quello che è il mondo del magazzino automatico, quindi del traslo d'elevatori, conveyor, gravity line con quello che è il modello del classico RP di magazzino. Quindi il secondo obiettivo grazie all'upgrade tecnologico è quello di riuscire a portare un nuovo concetto di integrazione diretta tra quello che è un sistema RP di gestione del magazzino a quello che invece è più il concetto fisico di movimentazione di quelli che sono i pallet o anche l'handling unit all'interno della realtà logistica. Terzo punto estremamente importante, considerando che è una migrazione di sistema quindi io dico voglio mitigare il rischio, limito tutto quello che è l'impatto con i processi business, ok lo faccio, ma introduco sicuramente delle nuove funzionalità. Ogni upgrade ci permette di avere nativamente quelle che sono delle nuove funzionalità che permettono di cambiare quella che è la visione del business. Quindi magari non il processo ma la visione stessa. A volte basta un campo all'interno di una DIMPRO, di una videata che permette di dare una visibilità migliore a quella che è l'operatore sia l'operatore che segue il processo, in questo caso l'operatore di magazzino. Il quarto obiettivo per l'azienda in cui stiamo lavorando è proprio la nuova visione per il futuro. Il fatto di poter integrare quello che è il magazzino, la gestione del magazzino, delle componenti con quelle che sono effettivamente le PLC e tutta la struttura automatizzata del magazzino permette di guardare al futuro. Perché? Perché posso fare delle cose che prima potenzialmente non potevo fare. Il contesto del progetto è un contesto molto ampio, un contesto internazionale. Il nostro cliente è un cliente che ha, diciamo così, magazzini in giro per il mondo. Quindi N magazzini sono impattati. Magazzini in Nord America, in Sud America, in Europa e in Asia. Qual è il concetto? Ogni magazzino è diverso da un altro. Sappiamo benissimo che all'interno delle realtà logistiche, a diverso magari di quelle che sono le realtà contabili, che tendenzialmente sono abbastanza standardizzate, tranne magari quelle che sono le localizzazioni fiscali, i magazzini tendono ad essere specifici non solo da azienda a azienda, ma anche all'interno della stessa azienda, ogni magazzino dipende da quelli che sono i processi che vengono correlati attorno. Abbiamo in Nord America, banalmente, in Canada, dei processi di magazzini più legati a quelli che sono i flussi di cross docking. In Europa i magazzini di questo cliente qua sono caratterizzati da magazzini fortemente automatizzati, quindi automatici, con trasoli e elevatori, conveyor, gravity line, cioè l'utilizzo proprio del traslo è molto esteso. Abbiamo Sud America magazzini che sono soggetti, tipo il Brasile, a quella che è la nota fiscale, quindi a movimentazioni specifiche per sopperire a quelli che sono le compliant fiscali. Abbiamo poi magazzini in Asia che spesso l'Asia è un mercato emergente, quindi la struttura, il rinforzo, il poter guardare veramente verso il futuro, in quello che è un nuovo modello di magazzini in Asia, soprattutto su quelli che sono hub concentrati, che diventano degli hub soggetti a grande distribuzione di volumi, è estremamente importante. Quindi Worldwide come visione, importantissima l'evoluzione, spingiamo il business oltre quello che è il limite attuale. Progetto timeline, uno dice è un progetto di upgrade, io tendo sempre a cercare di vedere oltre a quello che è il limite. Spesso l'upgrade è visto unicamente come quello che è un passaggio tecnologico da una versione precedente a una versione nuova. Qual è il valore aggiunto? Spesso e volentieri nessuno lo sa o nessuno riesce a percepirlo. Il vantaggio di quello che deve garantire e dare quello che è un consulente effettivo è riuscire a spiegare effettivamente qual è il valore aggiunto di quello che è un upgrade. Perché l'upgrade permette di darci delle chiavi nuove per aprire delle nuove porte. Poi dobbiamo essere noi a cercare di indirizzare quella che è la roadmap verso la velo evoluzione e indirizzare praticamente quella che potrebbe essere l'ottimizzazione del supporto al business. Il progetto ha un impatto all'interno della prima fase legato a quello che è l'upgrade. Upgrade che è tendenzialmente di natura tecnica. Quindi upgrade tecnologico, mitigazione del rischio, conservativo. Una seconda fase correlata a tutta la componente di test. Una volta fatto l'upgrade, logicamente alcune attività che abbiamo poi vengono affrontate in maniera differente, alcune logiche tecniche cambiano, va comunque riadattato, testato. Il terzo step, in verità, è lo step differenziale. È lo step che inizia a giustificare del perché iniziamo a fare un upgrade. Quindi facciamo un upgrade, cerchiamo di portarci verso quello che è il valore aggiunto del mio upgrade. La nuova release dell'IWM permette di integrare direttamente le PLC con quello che è un RP. Uno dice, ah caspita potrebbe essere limitante. No. Una volta per integrare l'IWM con il magazzino avevi bisogno di un sistema intermedio, un midware, un plan connectivity. Ad oggi poterlo fare direttamente ti permette di avere una struttura molto più snella di quella che è l'integrazione tra sistemi, ma non solo. Hai una visibilità completa all'interno del magazzino. Perché all'interno dell'IWM tu puoi tracciare la movimentazione dei pallet all'interno di qualsiasi area. Banalmente la movimentazione su quello che è un mio conveyor può essere giustificato e gestito attraverso dei warehouse task. Quindi visibilità completa, integro completamente quelli che sono i trasoli e gli elevatori sia in fase di picking che di putaway con l'IWM. Posso permettere di ottimizzare tutte quelle che sono le attività di prelievo, di carico a magazzino, di stoccaggio, di asservimento verso la produzione e di versamento da produzione. Quindi ampiamente c'è anche tutte le attività post-produzione legate anche al packing possono essere integrate col sistema. Con che cosa? Banalmente degli oggetti chiamati telegrammi che vanno direttamente sulle PLC. Quarta fase, fase di realza, pre-produzione con tutti quelli che sono i test legati all'integrazione e poi abbiamo tutta la componente di live fasato in funzione di quelli che sono i magazzini a maggio 2020. Quindi un progetto sicuramente molto molto ampio. Faccio un pochettino un focus su quello che effettivamente è l'IWM come prodotto ma quelli che sono effettivamente i punti principali che poi spingono anche il cliente ad andare verso una tecnologia di questo tipo qua. Probabilmente molti di voi sono abituati a sentire, a parlare di quello che è il WM o magari hanno dei WMS che non sono SAP, che sono integrati con SAP. Spesso e volentieri le logiche dei WMS tradizionali o di quello che è il SAP WM tende a gestire quello che è il ricevimento della merce subito dopo il concetto di ricevimento logico. Cioè io ricevo logicamente quello che è il bene che mi sta arrivando ipotizziamo, dopodiché inizio a fare lo stoccaggio. Perfetto, lineare, mi piace. Ma il valore aggiunto è proprio questo che noi vogliamo all'interno dei nostri magazzini o vogliamo un processo maggiormente integrato? Il processo maggiormente integrato mi dà una visibilità maggiore della merce che sta arrivando in magazzino con tutto quello che è il ricevimento? Sì o no? Parliamo di flusso inbound. Certamente. La visione nuova dell'IWM è proprio questo. Uno dei punti chiavi è il concetto di integrazione di processi. Non passo più, non ragiono più sul ricevimento logico e il ricevimento fisico ma inizio a integrare tutto quello che è il concetto di ricevimento con già un oggetto che arriva prima, l'avanship in note del fornitore. Cioè immaginiamo di avere già il concetto di avanship in note, di packing list del fornitore integrato direttamente con quello che potrebbe essere lo stoccaggio e il ricevimento fatto però non solo dal punto di vista logico ma logico e fisico completamente integrato. Prima grande innovazione. Seconda innovazione è la visibilità all'interno del magazzino. Ad oggi non esiste strumento o meglio l'attuale strumento del WM su SAP non permette la visibilità completa di magazzino. L'operto logistico deve entrare nelle transazioni, a volte transazioni custom, devi farti le query, alcune cose non le vedi. Quindi l'IWM garantisce questo, il fatto di avere un unico monitor che ti permette di vedere qualsiasi cosa succedere nel magazzino. Un operatore responsabile della logistica è in grado di vedere in qualsiasi momento dove sta il pallet o l'handling unit. Perché sull'IWM si ragiona per l'handling unit, è un concetto che tendenzialmente nei sistemi precedenti non era utilizzato. Iniziamo a pensare che all'interno del nostro magazzino noi il tutto iniziamo a stoccarlo o prelevarlo partendo da quello concetto di HU, handling unit, che è correlato a quello che potrebbe essere un pallet, a quello che potrebbe essere una scatola, una bocca di lupo, dove io so effettivamente all'interno quanti pezzi ho e so come movimentarli. La full warehouse visibility viene caratterizzata appunto dal fatto di avere una gestione a handling unit, un monitor dedicato che permette, grazie ai warehouse task, a quelle che sono le movimentazioni, di avere visibilità completa in ogni area di magazzino. Ad oggi banalmente, anche all'interno di quelli che sono i magazzini, se si vuole vedere in quale step del conveyor il pallet si sta muovendo, hai bisogno di quella che è una soluzione che è costruita, diciamo così, o sviluppata da quelli che sono i software vendor delle PLC. Qua ti dà un valore aggiunto perché sì, avrò sempre bisogno di quello che è il cockpit o il monitor del software vendor delle PLC, ma anche in SAP è possibile vedere a quale altezza del conveyor si sta muovendo quello che è il pallet. La terza grossa innovazione, ed è proprio la roadmap in cui sta andando SAP all'interno di quelle che sono le tecnologie di magazzino, è sempre di più l'integrazione. E l'integrazione parte da quelli che sono i dispositivi più semplici, che possono essere i classici scanner o pistole, a quelle che poi sono effettivamente le PLC. Quindi il mondo del magazzino all'interno di un sistema RP diventa sempre di più integrato con quelle che sono le logiche e le tecnologie delle PLC. Cioè questo è il grosso valore aggiunto, parlando con il nostro cliente, presentando anche una demo su quella che è la soluzione, il cliente ha detto che aspetta mi sta venendo in mente iniziare a introdurre all'interno del magazzino delle tecnologie nuove che fino ad oggi non ho mai pensato di introdurre, perché è limitante, avevo paura di avere N sistemi che giravano, N concetti di montazione, complessità e tutto. Ad oggi è possibile evolvere quelli che sono i processi business all'interno proprio di quello che è il concetto delle funzionalità dell'IWM. Si è bloccato. Qui è una slide che fa vedere effettivamente quelle che sono le principali feature, quindi vediamo che come strumento ha N funzionalità, da tutta la gestione dei processi di inbound a quelli che sono i processi interni di magazzino, quindi tutta la componente di trasferimento dello stock in diverse aree, diversi magazzini. Yard Management, estremamente interessante per riuscire a indirizzare quello che è effettivamente il trasportatore che sta arrivando o per scaricare merce o per riterrere merce. Il sistema è in grado di individuare quella che è la porta, la porta principale su cui andare ad indicare al camion di posizionarsi. Direzione di tutte quelle che sono le cezioni all'interno del magazzino. Labor Management è una delle componenti un po' meno utilizzate perché permette di integrare tutte quelle che sono le attività anche del personale, degli operatori logistici all'interno di quello che è il mondo del magazzino. Outbound Management, sicuramente importantissimo per tutti i processi di picking e anche di asservimento verso la produzione. Concetto di batch, serial number e soprattutto HU. Adesso qua non è citata ma l'HU è un oggetto estremamente importante. Ultimo è l'integrazione con tutti quelli che sono i magazzini automatici che è la vera innovazione adesso di quella che è l'ultima release. L'IWM effettivamente all'interno di quello che è lo scenario S4 è uno degli oggetti che spinge la reale evoluzione di quello che è la soluzione. Ad oggi noi sappiamo che l'S4 è comunque la nuova piattaforma di SAP, la nuova release, importantissima perché dal 2025 non ci sarà più manutenzione sulle versioni precedenti. Però quali sono i valori aggiunti dell'S4? Ce ne sono N in ogni ambito. Uno dei maggiori, dei principali a mio avviso come esperienza della supply chain è proprio l'IWM perché introduce un concetto nuovo di gestione di magazzino ed è embedded, nell'S4 è embedded, non è più esterno. Quindi anche tutte quelle che erano interfacce per i master data, le grafiche materiali correlate al mondo del CIF, al cosiddetto CIF, non esiste più. Tutto integrato. Qua un pochettino va a descrivere quello che è l'approccio, diciamo così, dal punto di vista tecnico di quelli che sono i nostri upgrade. TechEdge è un'azienda che porta davanti le prime quattro lettere un nome tech, fortemente tecnologico, quindi siamo fortemente specializzati in tutti quelli che sono le componenti di upgrade. Suggeriamo ampiamente, diciamo così, l'approccio all'upgrade. L'upgrade stesso, il fatto di fare una conversion, di portarsi a casa una tecnologia è il primo step per avere effettivamente, aprire una piccola porta che è quella verso l'evoluzione del business e della gestione dei processi. Noi logicamente abbiamo una metodologia che è strutturata, dedicata a tutto quello che è il mondo delle upgrade, strategie logicamente basate su quelli che sono diversi cicli di upgrade, su quelli che sono i sistemi, una factory dedicata e poi abbiamo degli acceleratori, dei tools che noi utilizziamo sia in fase di upgrade che anche di conversion, perché poi adesso il passaggio dall'ECC all'ES4 è chiamato conversion perché è un po' più impattante, ma in verità non è altro che un upgrade poi di quella che è la tecnologia, passiamo effettivamente alla tecnologia successiva. Questi sono effettivamente quelli che a mio avviso sono un pochettino gli scalini, il percorso che uno deve iniziare a fare, partiamo, sono i scalini verso quello che può essere il successo di un'impresa o l'evoluzione di un'impresa. Come ho detto all'inizio, il concetto darwiniano secondo me una volta era legato alla sopravvivenza della specie, ad oggi il concetto di evoluzione darwiniana secondo me è strettamente legato alla sopravvivenza invece dell'azienda perché la competizione ormai è molto ampia, la competizione è ampia, cambia tutto, il modello dobbiamo essere veloci, dobbiamo essere agili, dobbiamo essere in grado di affrontare nuove sfide proprio velocemente. Chi prima ci arriva probabilmente più poi dopo ha garanzia o ha la possibilità di raggiungere quello che è l'ultimo scalino. Il primo step, il primo scalino che ci porta poi effettivamente all'evoluzione è la trasformazione tecnologica. Quindi il primo step legato alla trasformazione tecnologica è immediato, necessario e garantisce quelli che sono dei benefit però a breve termine. Infatti lo chiamo short-end, non è più sufficiente. cioè quell'approccio lì, un unico legato a quella che è la trasformazione tecnologica non è più sufficiente per le nostre aziende. È un primo step ma lì abbiamo un benefit nel breve termine. Da lì noi dobbiamo essere in grado di carpire e di cogliere quelle che sono le reali occasioni e iniziare ad andare su quello che è il secondo step. Che mentre il primo è fortemente tecnologico, il secondo si avvicina sempre di più a quello che è il business. Perché il secondo step va su quello che è l'ottimizzazione delle performance business. Quindi inizio a capire come utilizzare la nuova tecnologia che nell'immediato mi ha dato un valore aggiunto in quello che è una serie di benefit che potrebbero essere un po' più a medio termine. Nel senso magari ci metto un po' di più ma all'inizio avere del valore per il business. E dopo l'ottimizzazione di quelle che sono le performance dell'attività business vado sull'improvement. Cioè inizio a gestire con quella che è la nuova tecnologia dei processi business. O che prima non gestivo, o che prima quando gestivo li gestivo male. Cioè li vado ad ottimizzare, miglioro. Introduco anche dei processi nuovi, magari ho anche dei dreams, quelli che sono i sogni nel cassetto. Ho sempre magari voluto gestire dei processi all'interno di quella che è la mia azienda ma non ce la facevo perché non avevo il supporto alla tecnologia. Terzo step importantissimo, il business improvement. E da lì, una volta effettuato tutto quello che è il benefit a medio termine abbiamo tutto quello che è il long term, che è proprio l'evoluzione. Perché l'evoluzione poi continua. Non si ferma. E continua. Il concetto di evoluzione è proprio chiaro. Ultima slide. Torno alla slide principale. Voi dite, caspita, abbiamo già parlato di innovazione e tecnologia. Abbiamo parlato di business e persone. Certo. Però all'interno di quella che era la presentazione l'obiettivo non era solo presentare quello che è una nostra esperienza dal punto di vista progettuale perché era fine a se stessa. Il concetto iniziale ritorna alla fine. Tutto quello che abbiamo discusso, effettivamente, è diviso in due grossi macroambiti. E sono dei macroambiti che noi stessi conosciamo molto bene. Perché innovazione e tecnologia è tutto quello che noi chiamiamo approccio tecnologico. È l'approccio più legato a quelle che sono le macchine. al concetto di evoluzione. Mi porto a casa la nuova tecnologia. Ma la nuova tecnologia, a fine a se stessa, non serve a nulla. Nel senso, abbiamo un altro approccio che può essere anche quello considerato a se stante. Perché spesso e volentieri si parla di persone, di business, di come si possono ottimizzare i processi ad alto livello. E quello è l'approccio più funzionale strategico. Però è sempre alto livello. Il valore aggiunto per quelle che sono le nostre imprese e l'evoluzione che noi dobbiamo cercare di percorrere sta proprio nell'intersezione di due. L'approccio tecnologico da solo ormai non basta più. Perché non ha il focus sulle persone e sul business. L'approccio legato solo ai concetti funzionali di persone e business dal punto di vista strategico non sono più sufficienti. Perché per metterci nelle condizioni di lavorare al meglio e di evolvere è proprio l'intersezione. Maggiori siamo coscienti e in grado di riuscire a creare quella che è l'intersezione tra questi due approcci e maggiore il valore che noi riusciamo a dare alle nostre aziende. Quindi proprio il concetto base di quella che è la presentazione all'interno di questi 25 minuti qua è provare proprio a stimolare quello che è non solo il progetto che stiamo facendo ma proprio il concetto di evoluzione tecnologica votata poi a quella che è il supporto, a quello che è il business e le strategie aziendali.